Salve a tutti ragazzi, buona domenica a tutti quanti, qua in Abruzzo la giornata è fantastica, c'è un sole incredibile e niente, va bene, io a livello diciamo calcistico vorrei fare ovviamente una precisazione iniziale prima di parlare della nostra partita con la Sampoloria, ossia vorrei complimentarmi con la dirigenza del Milan che con l'acquisto di Piontek ha fatto un grande passo in avanti e soprattutto qualitativamente è una squadra che è cresciuta questo Piontek fa un gol ogni 50 minuti, quindi ha veramente una percentuale realizzativa pazzesca addirittura l'ha al di sopra di Cristiano Ronaldo, quindi lui segna più di Cristiano Ronaldo a livello di minuti e di percentuali è un giocatore che su tre tiri in porta fa un gol, quindi ha una media pazzesca, il Milan ha fatto veramente un grande acquisto e ci ha purtroppo letto bene, mi auguro che ci sono gli bassi per arrivare sopra di noi al quarto posto mi auguro che anche noi riusciamo ad affilare delle belle vittorie perché vedo che questo Milan sta prendendo sta prendendo una buona continuità con questo giocatore che veramente sta facendo la differenza anche al Milan ecco quando io dico magari che la nostra dirigenza spesso e volentieri con l'acquisto di Nainggolan e di Vresailco che come tutti sappiamo Vresailco è sempre infortunato se è dovuto operare, Nainggolan è al 40%, sta più fuori che dentro e quando io ecco quando dico che gli acquisti bisogna saperli fare è purtroppo il Milan a cui l'ha saputo fare noi purtroppo abbiamo fatto due acquisti forse sbagliati fino ad ora, anzi sicuramente parlando di oggi ci sono diverse partite interessanti come Genova-Lazio, Napoli-Torino molto interessante e ovviamente la nostra Inter-Sambdoria la Sambdoria è una squadra comunque non da prendere alla leggera perché ha quel quagliare da lì davanti che nonostante i 36-37 anni sa il fatto suo e i gol quando ha l'occasione li fa e come li fa anche, li fa molto molto bene ha dei buoni giocatori, non ha un gioco scintillante ma un gioco fluido quindi è una squadra che gioca, anzi direi che a volte gioca, anzi spesso gioca anche meglio di noi perché purtroppo come tutti noi interisti sappiamo la nostra squadra non è che ha questo grande gioco a livello di formazione, come tutti va bene, noi sappiamo Icardi ha un'infiammazione al ginocchio quindi non sarà disponibile per la partita odierna contro la Sambdoria ma io credo che non sia solo questa infiammazione al ginocchio ma ci siano dietro tante altre cose ricordiamoci il fatto di Vandalara, del sasso sulla macchina, sull'automobile quindi ci sono tanti problemi a livello personale anche riguardante questo nostro ex capitano in difesa dopo abbastanza si rivede Skriniar che comunque è una pedina fondamentale per la nostra squadra, importantissima aggiungo anche importantissima perché Skriniar è metà della difesa dell'Inter per fortuna riprende il posto di Miranda e rientra Skriniar si userà il turnover anche per Asamoa che praticamente si vedrà sfilare il posto da Albert oggi molto probabilmente, non so, questo da Albert sinceramente a me non è mai piaciuto anche se ha filato uno a due partite buone ma non lo so, a me non piace proprio a centrocampo Prozovic giocherà sicuramente con Perisic rientra Politano in attacco il solito isolato adesso Lautaro Martinez che comunque nelle ultime due partite ha segnato anche se una sul rigore ma è stato decisivo, bisogna ammettere quindi è giusto che si continui a dare modo a Lautaro Martinez di farlo giocare sperando che col fatto che giochi tanto adesso in questo periodo lui riesca a prendere comunque più fiducia in se stesso perché è una cosa fondamentale la fiducia in un giocatore soprattutto giovane come lui bisogna dargli fiducia e vedere piano piano lo vedremo sicuramente crescere che comunque come giocatore è un buon giocatore certo ha tanti margini di miglioramento ancora sono certo però comunque già è a buon punto e niente che dire e infine quello che posso dire io non mi sbilancio nei pronostici però questa è una partita fondamentale perché ripeto il Milan adesso non ne sta sbagliando una ha acquistato un giocatore che purtroppo la differenza la fa e come se non la fa ieri ha fatto anche veramente un grande gol oltre il gol di testa in anticipo che è stato fantastico ma il primo gol è veramente stato un gol da un attaccante che sarà il fatto suo un attaccante che a noi servirebbe ha fatto un buon acquisto quindi vietato sbagliare con la Sampdoria oggi è assolutamente vietato sbagliare un pareggio sarebbe non dico con la scovitta ma quasi perché comunque con la questione dei tre punti se ne prendi uno ne perdi due e Colomina che difficilmente adesso ti sbaglia le partite perdere due punti sarebbe tosta anche perché le Romane non è che stanno lì dietro a grattarsene a grattarsi le palloncine le Romane adesso anche loro stanno comunque affilando dei risultati e quindi sbagliare sarebbe tagliarsi un po' una gamba da soli quando te ne tagli una poi sai che se te ne tagli l'altra poi non cammini più quindi bisogna evitare di tagliarsi adesso le gambe da soli ma giocare tutte le partite come fossero una finale e fine da che dirvi la Juventus sta facendo un campionato a parte quindi è inutile che mi dilungo tanto sulla Juventus perché già dall'inizio del campionato si sapeva che la Juventus gareggiasse un campionato a sé quindi con tutti i giocatori che ha in squadra ne ha tre di squadre con tutti quei giocatori quindi teoricamente avrebbe vinto il campionato anche con la seconda o con la terza squadra quindi non ci voglia manco di dilungarmi per il resto ragazzi forse Inter speriamo insomma almeno di vincerla che non dico il gioco perché il gioco si sa che non è che può uscire da un giorno all'altro può uscire il gioco di una squadra oppure può i giocatori possono amalgamarsi così da un momento all'altro quello è una cosa che col tempo con tanto tempo si può creare un feeling tra la squadra un feeling che ancora non vedo però almeno speriamo che un risultato lo riusciamo a portare come col Parma dove lì comunque la squadra ha dimostrato nel secondo tempo specialmente di avere almeno carattere quindi speriamo di continuare su quella linea che la squadra entri con la stessa testa del secondo tempo del Parma e che quindi giochi press e ci metta comunque lo spirito e l'animo per continuare una serie che per fortuna sta iniziando positivamente e vabbè di nuovo vi auguro una buona domenica a tutti quanti un abbraccio forza Inter comunque ragazzi questo Piontech mi preoccupa perché il Mina ha fatto un buon acquisto ragazzi è caso noi porca puttana abbiamo acquistato due giocatori rotti uno che si è operato e l'altro che non si sa non gioca mai quando gioca gioca male perché non sta bene oggi forse giocherà non si sa ma non sta bene anche al 50% quindi voglio purtroppo a volte ci conta anche Spalletti con gli acquisti sbagliati e la dirigenza però vedremo forse Inter speriamo di vincerla questa e di parlare dopo la partita di una vittoria e quindi di un distacco ancora di sicurezza sulle altre sull'altra Milanesa del Milan e sulle due romane ciao a tutti ragazzi